Due percorsi per acquisire competenze trasversali negli uffici del Comune di Napoli coinvolgono gli studenti del Liceo Classico Statale Vittorio Emanuele II Garibaldi. Il primo è dedicato all'accoglienza dei visitatori del Castelnuovo e il secondo riguarda l'approfondimento sul funzionamento del Consiglio Comunale. Siamo molto contenti di poter ospitare i ragazzi e le ragazze del Vittorio Emanuele Garibaldi. Attraverso questi PCTO, percorsi di alternanza scuola-lavoro, vorremmo che il nostro Comune fosse accogliente verso i nostri giovani e che potesse essere un'opportunità anche formativa nel loro percorso scolastico. Quindi non solo conoscere le istituzioni e quello che le istituzioni possono fare per loro, ma avere anche un'idea di quelle che possono essere eventualmente le loro professioni del futuro. Quindi un percorso che loro stanno facendo ad esempio legato all'arte con il maschio angioino, ma un altro percorso anche all'interno dell'istituzione Consiglio Comunale. Trasferire loro appunto le attività che il Consiglio fa e magari nel confronto durante questo periodo riuscire anche a percepire, carpire qualche suggerimento rispetto alle attività consigliari, in modo tale da poterle condividere anche con i presidenti e le commissioni e perché no sviluppare delle proposte di iniziativa consigliare. Quindi ci auguriamo che questa possa essere per loro un'importante modalità formativa e anche uno sguardo sull'ora eventuale futuro.